Ciao a tutti, oggi vi faccio vedere come riutilizzare il pane di raffermo. Prendiamo una fetta e imburriamo con un pochettino di margherina, facciamo tutte le fette così, ora aggiungiamo dei wurstel, ora aggiungiamo le olive, poi aggiungiamo del salame a pezzettini. Il prosciutto, mettiamo un po' di polpa di pomodoro, a coprire mettiamo delle sottilette, mettiamo l'origano. E ora inforniamo a forno caldo a 200 gradi per una quindicina di minuti, appena si torna il formaggio. Ed ecco pronto il nostro pane pizza, croccante e friabile, spero lo proviate e poi mi dite com'è. Per oggi è tutto, una buona serata a tutti, buona domenica, ciao, arrivederci, ciao, ciao.